allo stesso tempo all'insegna della tradizione della nostra regione. Il litorale è stato preso d'assalto dai bagnanti, le spiagge dei romani hanno fatto registrare il tutto esaurito. Allora noi ci colleghiamo con Rossella Santilli che si trova a Freggene. Rossella. Sì, buonasera, buon ferragosto. Siamo al tramonto su questa spiaggia di Freggene che ha registrato veramente un pienone di presenze negli stabilimenti. Il boom di presenze adesso è chiaramente rappresentato dal momento dell'happy hour perché poi quando calerà il buio le spiagge verranno interdette all'utilizzo della parte delle persone perché le norme anti-covid, soprattutto qui a Fiumicino, non lo consentono. È stata una giornata di grande movimento anche ad Ostia su tutto il litorale della nostra regione. Dove però c'è stato un forte impegno da parte delle forze dell'ordine proprio per controllare che tutti si comportassero con le regole del distanziamento indossando le mascherine nei luoghi chiusi. Ma vediamo nel racconto che abbiamo preparato questa giornata di ferragosto, un ferragosto particolare. E poi linea allo studio. Ragazzi, mi raccomando, oggi niente gavettoni. Sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine ecco il ferragosto dei romani ad Ostia, quelli che non sono andati in vacanza, che per un giorno hanno lasciato il caldo della città per godersi un po' di prezza in riva al mare. Le pare che sia abbastanza distanziato qui? Diciamo che le regole ci sono, poi sta pure un po' a noi. Non andate al mare? No, se è troppa gente attaccata. Vediamo e ci facciamo affari nostri. Avete fatto l'esaurito? No, non siamo i sauridi ancora. Di testa sì, ma gli ombrelloni ci sono ancora, sì. Norme di sicurezza vengono contestate? No, perché continuamente, ripeto al microfono, di mantenere la distanza, di indossare la mascherina negli spazi comuni. Fregele, anche qui l'assalto dei romani, stabilimenti pieni, con le dovute attenzioni anti-Covid. Quando sto alla reperta e non mi devo avvicinare la gente, no. Però se poi devo andare in un posto chiuso e so che ci saranno da rispettare le norme in un determinato posto, è ovvio che le rispetto per la mia salute e la salute degli altri. Non c'è tanta gente, venti là, adoro, si sta bene. Tutto esaurito, i romani sono venuti in abbondanza, non sono partiti per la maggior parte e quindi la semistagione sta andando discretamente bene, ma ormai si può dire che è andata abbastanza bene. Il giorno di 3 agosto riusciamo a fare anche un bilancio? Sì, un bilancio positivo, sia perché siamo riusciti a sopravvivere, perché fino a due mesi fa la maggior parte di noi pensava proprio di chiudere. E invece adesso le cose sono invertite. Certo, c'è questo problema del coronavirus che ci affligge tutti i giorni, però stiamo cercando tutti quanti di adeguarci.